Seconda cicogna in arrivo per una storica ex corteggiatrice di Uomini e Donne Un ex corteggiatrice di Uomini e Donne ha annunciato di aspettare il secondo figlio. . Molti personaggi sono diventati famosi dopo aver partecipato al talk show di Canale 5 condotto da Maria De Filippi. . Tra questi c'è sicuramente Cancelletto Giorgio Alfieri, il beltronista che nella stagione 2006-2007 decise di uscire dagli studi di Uomini e Donne insieme allex corteggiatrice Cancelletto Martina Luciani. La scelta di Giorgio Alfieri è ricordata come una delle più stravaganti. . L'ex protagonista di Campioni, Il Sogno, infatti, la scelse andandola a prendere sotto casa con tanto di megafono e limosin. . Un momento divertente anche quello del viaggio post scelta a Venezia e Firenze, dove i due si mostravano particolarmente complici, affiatati e innamorati. Che fine hanno fatto Martina e Giorgio Alfieri?. . Il loro amore era così forte che nel 2008 hanno dato anche vita a una splendida bambina di nome Asia. Successivamente, però, dopo diverse rotture e riavvicinamenti, la coppia ha deciso di prendere strade diverse nel 2016. . Per fortuna adesso entrambi sono felici e sereni. Giorgio Alfieri continua a rimanere single e a dedicarsi anima e corpo alla sua piccola Asia. . Martina Luciani, invece, è fidanzata da due anni con Patrizio Pascucci, calciatore e consulente assicurativo. Nelle ultime ore è stata diffusa una notizia inaspettata proprio sullex corteggiatrice di Roma. . Andiamo a scoprire di cosa si tratta e le ultime news sui due ex protagonisti di Uomini e Donne. Martina Luciani incinta, lex corteggiatrice di Uomini e Donne felice e innamorata. . . . . . . . . .